Eritrei, siriani, iracheni, un fiume inarrestabile di disperati che preme ormai da mesi alle porte dell'Unione Europea. Nel giorno in cui per la prima volta agenti hanno sparato sulle persone, ucciso un migrante, accaduto in Bulgaria, il Molise ha fissato i criteri per distribuire in regione profughi richiedenti, asilo e migranti. È avvenuto al tavolo di coordinamento della prefettura di Campobasso, presieduto dal prefetto Francesco Paolo Di Menna, che ha anche illustrato due progetti presentati da una società convenzionata con la prefettura che hanno già ricevuto l'assenso del Ministero dell'Interno. Il primo, denominato Ulisse, prevede di sistemare in appartamenti dislocati in città gruppi da sei a otto persone. Il secondo progetto si chiama Mensa, prevede la possibilità di offrire a un numero predefinito di cittadini italiani e stranieri, individuati d'intesa con i servizi sociali dei comuni interessati, pranzo e cena in strutture di accoglienza dei migranti. Chi aderirà potrà utilizzare i laboratori, partecipare alle attività ricreative, culturali ed educative svolte dal centro. L'incontro si è concluso con un aggiornamento sui lavori della sezione di Campobasso della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale, che in pochi mesi ha raddoppiato le convocazioni dalle iniziali 8 a 16. Più di 900 persone sono state già convocate e si conta di giungere entro l'anno a definire tutte le procedure. A tutti i cittadini stranieri cui è stata concessa protezione è stato garantito che potranno proseguire i percorsi di integrazione avviati nelle strutture di accoglienza temporanea.